Senti la musichetta? E questa è la musichetta della vostra torta! Perché stiamo aumentando sempre di più e oggi, domenica pomeriggio, dopo che ora ha mangiato, si è sdraiato sul divano e riposato tutto quanto fresco, c'ha quella voglietta di dolce, è vero? Qualcosa però che non ti impegna, non ti senti boico nei sensi di colpa, ce l'ho io il dolce vostro! Ce l'ho io, fatta apposta per noi! e festeggiamo pure! No, vieni qua, vieni qua vicino! Guarda che ricotta che ho preso oggi! E guarda, ancora è morbida, è tiepida, è stra buona! Buonissima! Pecora? Buonissima! Allora, quindi, crostata, ricotta e visciole Buonissima! È il nostro, è il nostro anniversario 43.000, mi sembra, 44.000 alla grande e abbiamo eliminato pure quelle cattive Adesso Farina 500 grammi di farina Sempre una tipo 1 uso io Vedete com'è? Il colore non è bianchissimo Poi, uova Ah, prima di tutto Prima di tutto lo zucchero Allora, qua una novità Voglio un attimo cambiare Personalmente il mio modo di fare i dolci Non voglio usare, cerco di non usare O voglio usarli il meno possibile, zuccheri raffinati Questo è uno zucchero non scovato Proprio grezzo di canna Vedete? Guardate quanto è umido Quindi, 250 Chissà di quello che verrà adesso la pasta frolla La prima volta la faccio, eh! Poi Burro, già a tocchetti, 250 grammi E la musica sta dentro di noi È domenico ammeriggio, qualcosa devi fare Poi la gente si annoia Quindi abbiamo subito Ah, che devo fare? Questo Un po' di aroma nella pasta frolla Quindi, le prime arance Guardate che belle Profumano Così Sentiamo il profumo dell'arancia vera Nuova roba che viene da fuori Tiè, queste sono l'ostre, vai! Poi Ah! Eeeh I rossi d'uovo, quindi Vado Voi direte, ma Nella ricetta ci vogliono due Due uova bianche E altre tre No, adesso vi dico il motivo Ho finito le uova bianche Ne sono rimaste soltanto le due Quindi, utilizzo quelle due Che faccio? Ecco qua Vai Bello Allora, una cosa importante Ok? Che cosa dovete fare? Velocemente Non toccate il burro direttamente Allora, perché ho detto burro? Perché io voglio il burro La pasta frolla è fatta col burro Poi, ci sono delle eccezioni Di paste simili Che, tipo Per fare la pastiera Quindi usano lo strutto Perché la tradizione dice quello Ma la pasta frolla col burro Signori miei Una volta la facciamo Deve essere buona Eccoci qua Ce l'abbiamo quasi fatta Se vedete che casomai non si fa Allora, che non si riesce a compattare Che dovete fare? È facilissimo Aggiungete un altro po' di tuorlo Senza nessun problema Ma che è successo? Vi dà la musica? Allora Io la sto facendo a mano Per una pura scelta Personale Perché non ho in questo In questa casa Non ho l'impastatrice Però potete farla tranquillamente Con l'impastatrice Se non volete toccarla con le mani Ecco Io Adesso la lascio in questa maniera E mi dedico A quello che è Il La farcia La ricotta Quindi, prendo la ricotta Frusta La lavoro un pochettino Allora Molte ricette dicono che ci va dentro All'interno l'uovo Io non ce lo metto La voglio più morbida La voglio più Più fresca Più così Metto un po' di zucchero Zucchero sì Lo metto Sempre questo qui metto Allora, quanto zucchero? Sui 500 grammi Deve mettere almeno 100 grammi di zucchero Un po' di liquore Io ho scelto del rum Eccoci qua Siamo pronti E questa pure è pronta Adesso Dobbiamo tirare La pasta frolla Col mattarello Questa volta Non ci sono macchine Ci aiutano qua Allora Guardate Con che semplicità Pure se si rompe Non fa niente Poi la riaggiustiamo Dentro la teglia Vedete? Guardate che scura che è È per lo zucchero E per la penna Che abbiamo usato Quindi abbiamo usato cose Più integrali Allora Scusate che non vi ho detto una cosa Imburrata E infarinata Ok? La carta forno È importantissima Perché così Giriamo La La frolla Come vogliamo noi Allora Faccio così Guardate Così Vedete dove ci sono i buchetti Faccio così Con le dita Ecco qua Così Mai perdersi Perdersi Così Insomma Non dobbiamo stare Troppo seri Lasciamoci andare Le cose riescono Lasciamo andare Le cose riescono Più ci prendiamo seriamente Più E più accadono i problemi Le situazioni Come nella vita La stessa cosa Quando ci prendiamo troppo seriamente Adesso Così Guardate Adesso qui Devo Devo Mettere La prima cosa La prima cosa Sono Le visciole Le visciole A Roma Sono veramente Importanti Perché c'è questa costata Che è fondamentale Fa parte Sotto un farinato Della cucina Giudaico Romanesca Ed è veramente La fanno veramente Buona Allora Io per caso Trovai queste amarene Queste visciole Scusate E si chiama Amarene di Di Cantiano Non è la pubblicità Sono buonissime Le sono piaciute tantissimo Guardate Le metto tutte quante così Le dispongo Buonissime Adesso Via con la ricotta Via con la ricotta Che meraviglia Che merendina Poi ai ragazzi I bambini Non gli piacciono le visciole Fatelo con la cioccolata Fondente Dentro la ricotta Ci mettete La cioccolata fondente Buonissima Adesso Facciamo un attimino Così Non c'è problema Non c'è problema Non vi perdete d'animo Anzi Max non ti perde d'animo Attappiamo tutto È fatta in casa Pa 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 Bello così Adesso forchetta Faccio il gremioletto che c'ho Ma è così Guarda qua Senti la musichetta Faramane Questa faccio così Metto il tappetto 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 Qua E adesso Al forno 180 gradi Per 40 minuti Ok? Ci vediamo tra poco Quando le tagliamo un pezzettino Siete pronti? Oddio 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 Allora Allora Qui Vedete qua Come si muove? Qua dentro che c'è C'è l'oro C'è l'oro Guarda Guardate come si muove È calda 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 Allora Dimenticatelo quello che state pensando Che io adesso la assaggio è così bollente Perché qua è da morire Però Io sto curioso Voglio vederla dentro Così vediamo un po' un attimo come succede Guardate che bello Guardate che spettavo Vediamo un po' un attimo Un quadratino, vediamo un po' Vediamo un po' Che spettavo Guardate che bollente Guardate che bollente E niente E ve la faccio vedere Dai Guardate che spettavo Chi è? Che buona E non si potrà mai tagliare Però guardate che robetta che è Vi fidate sulla parola? Aspetta Aspetta Avere l'assaggio dai Oddio mio Oddio 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 no Non lo devo fare Lo voglio fare Voglio fare E butto Buono La lingua ormai è partita Però È della bontà suda Il burro La farina, lo zucchero Questa marena Buonissima E sta ricotta Mamma mia Pastore mio Quanto sei bravo Che ricotta che hai fatto Per curarlo mio Buona domenica a tutti Riempitele così le domeniche Costa poco E vi divertite